E io però una cosa, questo non lo so se lo posso dire, io la prima volta che senti la lezione, era una lezione prova del consigliere Fava, rimasi veramente meravigliata, ma per la originalità con cui aveva impostato la lezione. Perché chiaramente tu leggi i manuali, il manuale ti dà una visione, ma quando senti la lezione del consigliere Fava, io lo devo dire proprio perché è una cosa favolosa, riesci a ridurre tutto ad unità, riesci ad essere molto sistematico, questo ti consente di usare pochissimo la memoria, di ragionare molto e di ricordare l'istituto. E questo è importantissimo soprattutto per chi non ha tempo per studiare, quando devi andare a fare lo scritto e ti devi arrangiare perché il tempo che hai dedicato allo studio è poco, se quelle lezioni le hai ascoltate, le hai interiorizzate, veramente sono sufficienti anche per fare l'esame.